Che stanchezza fringuelli, sono appena rientrato da un allenamento di 12 km a corsa per tornare a gareggiare nel circuito del triathlon questa decisione l'ho presa due mesi fa, infatti oggi è l'ottava settimana di allenamento sono letteralmente bollito, mi alleno prevalentemente da lunedì al venerdì inserendo per il momento l'allenamento di corsa, bici e palestra per potenziare un po' la massa muscolare dal primo di giugno inserirò anche il nuoto che fra tutte le discipline è quella che sono più avanti nella tecnica quindi devo solo riprendere il gesto ma per quanto riguarda la tecnica e l'acquaticità sono a buonissimo livello mi alleno da lunedì al venerdì perché? perché il sabato e la domenica ho una famiglia e hanno bisogno della presenza del babbo e del marito ecco ho spiegato tutto questo perché ho iniziato, o meglio, perché ho reiniziato a fare triathlon perché voglio rimettermi alla prova ormai a 40 anni e questo progetto che a me obiettivamente piace molto perché mi sta dando per adesso molte soddisfazioni ho iniziato a correre il primo di aprile facendo 5 km con la lingua di fuori oggi ne faccio 12, cioè stamattina ne ho fatte 12 avrei potuto arrivare tranquillamente almeno fino a 15 e il ritmo si è abbassato notevolmente, il ritmo di corsa quindi sono molto contento di questo progetto e questo progetto devo dire piace anche a molte aziende alcune le avete già conosciute ed hanno deciso di sostenermi oggi mi dedico, mi ritaglio questo momento per parlarvi di un'altra azienda che ha deciso di sostenere il mio progetto di triathlon si chiama Sport Lab Milano è un'azienda fresca, un'azienda giovane è nata soltanto 3 anni fa e devo dire, avevo già provato in passato i suoi prodotti ma vi assicuro che quando mi hanno rimandato i loro prodotti per accompagnarmi durante i miei allenamenti durante le mie sessioni di training, di corsa, bici, nuoto, palestra sono rimasto ancora una volta incredibilmente sorpreso dalla qualità dei loro prodotti eccolo qua il packaging che mi hanno inviato tutto realizzato in carta riciclata quindi un'attenzione all'ambiente non soltanto per quanto riguarda questo pack ma anche per quanto riguarda i loro prodotti adesso ve ne faccio vedere alcuni poi magari più avanti nel corso dei miei allenamenti vi farò vedere anche come si usano vi farò vedere perché si usano quando si usano e c'è anche questo kit che è possibile utilizzarlo per diciamo così, per viaggiare questa confezione contiene delle buste monodose tra l'altro arriva questo profumo incredibile dicevo che oltre ad essere molto attenti al packaging per quanto riguarda l'invio della merce tutto realizzato in carta riciclata anche i loro prodotti sono tutti realizzati con plastica riciclata per il momento arrivano al 30% ma mi hanno assicurato che il loro obiettivo è quello di arrivare e di spingersi ancora più in alto per quanto riguarda la percentuale di plastica riciclata perché questo? perché nel 2024 non esiste ormai nessun brand nessuna azienda che non abbia un occhio di riguardo all'ambiente e anche Sport Lab Milano sta facendo molta attenzione e di conseguenza sta facendo anche la sua parte per il rispetto dell'ambiente altre cose molto importanti tutti questi prodotti che vedete si suddividono tra il prima e poi ne parleremo non vi preoccupate il durante e anche il dopo allenamento quindi sono tutta una serie di creme che lo sportivo di qualunque sport pratichi può utilizzarle per diciamo così avere un'esperienza sportiva al massimo livello e senza irritazioni di nessun tipo allora partiamo col dire che tutti questi prodotti sono dermatologicamente testati e non hanno nessuna traccia di componente animale al loro interno quindi potrei quasi dire che sono vegani passatemi il termine ma insomma ci siamo capiti un'altra cosa molto importante è che hanno una e soprattutto sono e soprattutto sono testati anche per quanto riguarda il nickel quindi qua dentro siccome lo sappiamo il nickel è una sostanza altamente allergenica non mi veniva il termine giusto e quindi ci sono molti di noi sportivi che sono incredibilmente sensibili al nickel bene tutti questi prodotti sono privi di nickel quindi da una parte abbiamo i test di laboratorio dermatologicamente testati dall'altra non ci sono tracce di prodotti animali qua dentro dall'altra non c'è praticamente nessuna traccia di nickel all'interno di tutti questi prodotti che come ho detto possono essere utilizzati prima, durante e dopo i vostri allenamenti un'altra cosa che mi piace tantissimo di Sport Lab Milano è che quando decidono di lanciare un prodotto prima di commercializzarlo e dopo aver fatto tutti i test di laboratorio inviano dei campioni ai loro diciamo così tester chi sono i tester? sono atleti pro che con il loro feedback e con l'uso continuativo di questi prodotti possono migliorare il prodotto ancora di più non so ad esempio e questo è un plus incredibile perché da una parte abbiamo i dati analitici del laboratorio che non mentano dall'altra però abbiamo anche l'esperienza e il feedback di chi questi prodotti li usa tutti i giorni ad altissimo livello quindi quando noi cicloamatori corridori della domenica nuotatori perdi tempo abbiamo bisogno di un prodotto per salvaguardare i nostri muscoli la nostra pelle il nostro pH e chi fa sport tutti i giorni lo sa bene cosa vuol dire allenarsi sotto il sole con il sudore avere delle parti del nostro corpo della pelle che sfregano l'una con l'altra quindi possono causare irritazioni bene chi si allena tutti i giorni sa benissimo quanto questi piccoli problemi se non trattati in modo accurato possono avere delle ripercussioni nel lungo periodo nella lista di prodotti di Sport Lab Milano troverete come ho detto prima prodotti per il prima quindi penso ad esempio a prodotti che vanno a preparare il muscolo prodotti che si usano ad esempio durante quindi creme e preparati per ridurre la frizione tra parti della pelle ad esempio le cosce che sfregano durante la corsa il sottosella quando si va in bicicletta oppure la parte dei capezzoli quando si va a corsa ecco e poi ci sono prodotti per il dopo prodotti per il ripristino muscolare penso ad esempio a un prodotto molto interessante guardiamo se lo trovo che a me fa impazzire Fit Relax che tra l'altro regala una freschezza incredibile quando lo si applica su polpacci e sui piedi questo è pensato per tutti coloro ad esempio che vanno a correre quando il piede entra nella scarpa le continue vibrazioni il continuo impatto sia col suolo ma anche col calzino e con la scarpa vanno un po' a lacerare passatemi il termine la superficie del piede dell'atleta questo prodotto è un rigenerativo è anche molto molto buono che il suo odore è molto molto fresco e regala questa sensazione di benessere al piede ma anche di freschezza una cosa molto importante ma non voglio entrare nello specifico dei prodotti perché ogni prodotto merita un'attenzione a sé voglio semplicemente fare una carrellata è questo prodotto qua il Travel Kit che contiene al suo interno delle buste monodose da utilizzare come vedete qua warm and cool quindi per il scaldamento e per il raffreddamento con questo kit potete viaggiare tranquillamente sono piccole ve le potete portare con voi in macchina in treno in volo in viaggio ovunque e questa è una cosa molto importante per per noi sportivi soprattutto quando dobbiamo viaggiare leggeri non abbiamo bisogno di portarci tutto questo kit tutto questo che vedete ma ci portiamo due o tre bustine di queste e stiamo a posto come vedete altra cosa molto importante i prodotti di Sport Lab Milano non hanno il packaging secondario cioè questi prodotti vengono venduti così come vedete tali e quali non c'è un'ulteriore scatola in cartone che serve per attivare l'attenzione del consumatore in un supermercato ok quindi non c'è non essendoci quindi non essendoci il packaging secondario capite bene che l'attenzione all'ambiente e il risparmio è molto sostanziale altra cosa importante potete trovare questi prodotti direttamente sul loro sito di Sport Lab Milano vi metto qua sotto in descrizione sia il mio codice sconto per avere un piccolo sconto per acquistare i prodotti di Sport Lab Milano ma anche su Amazon su Amazon però altra cosa importante tutti questi prodotti li trovate in vendita direttamente sul loro sito web se poi utilizzate il mio codice sconto Davide 20 avrete uno sconto del 20% che non sarà tanto però vi assicuro che non è poco ho voluto fare questo video fringuelli per ringraziare Sport Lab Milano che ha creduto nel mio progetto e chi fa sport come me come noi come voi sa benissimo quanto sia dispendioso fare sport quanto sia difficile anche la ricerca di prodotti che in questo caso sono tutti made in Italy di qualità e che spesso si tende a risparmiare e magari non sappiamo mai le fonti dei prodotti i test che vengono fatti in questo caso tutti i prodotti sono realizzati in Italia dal packaging alla crema e testati in laboratori accreditati quindi ringrazio Sport Lab Milano per avermi sostenuto per sostenermi durante questo progetto sono sicuro che anche voi se vorrete potrete imparare a conoscere anche i loro prodotti perché io li sto usando ormai da qualche settimana e devo dirvi che sono fantastici a me per esempio piace tantissimo questo il Power Shower un sapone detergente da doccia ma che può essere utilizzato tranquillamente anche per detergere i vostri capelli e vi lascia una freschezza incredibile insomma fringuelli io adesso vi saluto perché devo riposarmi altrimenti collasso andate a fare un giro sul sito di Sport Lab Milano andate a vedere i prodotti che offre e poi ne riparliamo e ovviamente poi andremo a vedere anche nel dettaglio ogni singolo prodotto e soprattutto come si utilizza ok fringuelli io ringrazio ancora Sport Lab Milano ringrazio anche voi per avermi e per continuare a sostenermi noi come sempre ci vediamo al prossimo video buon allenamento alla prossima ciao